Ciao a tutti dal garage di Asso. Vi faccio vedere un mini set di piatti di una marca che molti di voi conosceranno, Tarkish. Eccoli qua. La serie, in questo caso, è la Zephyrus, una delle mie preferite, una serie molto bella, studiata per il jazz, inserita nella linea dedicata al jazz, dove ce ne sono ovviamente tante altre. Il set in questione è composto da una IET di peso medio, diametro 14, un crash da 18 pollici, un extra light ride da 21, una misura non così consueta, ma si integra benissimo con gli altri due piatti. È un set per suonare non solo jazz, anche blues, rock, anche perché i suoni sono molto morbidi, tendenti all'oscuro. Ovviamente il 21 ha un wash notevolissimo, può essere usato come crash ride, molto molto bello. La IET è definito, corposo, un bel chic pieno e non slabbrato. Mi piacerebbe farveli sentire, ma con il cellulare, insomma, non è che renderà moltissimo, perché interessato, comunque, dei file audio saranno, insomma, inviati senza colpo ferire. Vi faccio vedere una panoramica anche della particolare martellatura, tornitura, finitura di questi piatti molto belli. Non costano tantissimo, sono prezzi, insomma, nella media, come per tutte le ditte turche, e ce ne sono tante, come voi sapete, fanno piatti comunque tutti molto molto belli. Bronzo 20, ovviamente tutti fatti a mano, come detto. Che dire, se vi va di provarli, sono a vostra disposizione, fra un po' si riapriranno forse tutte le situazioni per poter riprendere un lavoro normale, speriamo. Ovviamente vi auguro intanto una buona quarantena, buon tutto e un caro saluto. Ciao!